Non è che non voglio leggere Celia Chia Facile Magazine, però c'è nel senso, non so come si fa. In questa semplice guida vi mostrerò i tre semplici step per collegarsi e leggere gratuitamente Celia Chia Facile Magazine. Iniziamo subito. Primo step, bisogna collegarsi al sito app.celiachiafacile.it Se avete già l'email potete fare login, altrimenti andate qua dove è scritto non hai un account e registrati ora. Dopo esservi registrati potete accedere. Eccoci, arrivati a questo punto, il secondo step. Potete navigare il nostro portale app.celiachiafacile.it Vedere il corso gratuito che parla di alimenti naturalmente senza glutine Che sarebbe questo E poi andiamo alla pagina Il Magazine Dove troviamo tutti i numeri della rivista Celia Chia Facile Magazine Che possono essere letti gratuitamente Passo 3 Quindi, clicchiamo qua Ingrandiamo Perfetto Ecco, adesso possiamo leggere gratuitamente la rivista Celia Chia Facile Magazine Buona lettura! Grazie a tutti!